Trasferire il processo BPV da Vicenza al Tribunale di Roma o Milano. E' questa la richiesta avanzata oggi al giudice per l'udienza preliminare dai difensori degli ex vertici della Banca Berica. A rispondere sarà ora il giudice nella prossima udienza fissata il 21 aprile. In quell'occasione il GUP deciderà anche se riunire il procedimento principale, già in fase di udienza preliminare, con un secondo filone nel quale la Procura contesta altri episodi di ostacolo alla vigilanza, sempre relativi alla crisi della popolare di Vicenza. Imputati nel filone in fase di udienza preliminare sono l'ex presidente Gianni Zonin, l'allora consigliere di amministrazione Giuseppe Zigliotto, gli ex vice direttori Emanuele Giustini, Andrea Piazzetta e Paolo Marin e il dirigente Massimiliano Pellegrini. La posizione dell'ex direttore generale Samuele Sorato è stata invece stralciata per motivi di salute, per lui il procedimento ripartirà a settembre.